dolcissimo iddio può essere un titolo ma anche senz'altro è una un gemito mistico bene dolcissimo iddio è il titolo delle 41 lettere che padre pio scrive a giuseppina morgera ricordo per quelli che non ci avessero seguito ieri che stiamo in concomitanza con la novena percorrendo un cammino di santità tracciato appunto in queste 41 lettere tra padre pio e la giuseppina morgera dicevo un cammino di santità descritto in queste 41 lettere che padre pio invia alla morgera per diverso tempo queste lettere furono tenute diciamo così in ombra nel 1994 grazie a due frati minori cappuccini napoletani padre dono padre felice donofrio e padre pietro zarrella vennero pubblicate da una casa editrice del nord nel 2015 le stesse lettere con una diciamo un apparato anche critico di note ampliato e maggiormente diciamo fruibile sono state pubblicate in coedizione con l'ancora editrice dalla nostra edizione padre pio da pietrilcina dolcissimo iddio quindi chi vuole trovare questo questo testo lo può senz'altro anche trovare nelle librerie ma richiederlo direttamente alle nostre edizioni padre pio da pietrilcino un po di pubblicità ai nostri prodotti ogni tanto fa bene allora dicevo queste 41 lettere sono proprio un itinerario di santità tra il padre spirituale e la figlia spirituale giuseppina morgeri un cammino di ascesi in cui il padre spirituale che non si limita solo a insegnare a dare delle direttive alla sua figlia spirituale ma mette ed esprime e manifesta il suo cammino di santità il suo cammino ascetico dicevo alla sua figlia spirituale giuseppina morgera e nel contempo si vedono i passi che giuseppina fa accompagnata da padre pio un cammino di ascesi cioè un cammino verso l'amore di dio un cammino verso questo amore dolcissimo di dio nel gennaio del 1917 tenete presente che queste lettere coprono un arco di tempo che va da 1915 a 1918 e sono anni importanti direi per alcuni aspetti drammatici per la vita di padre pio che nel 1918 poi riceve definitivamente le stigmate visibili a san giovanni rotondo e quindi senz'altro in queste lettere emerge anche questo cammino di conformazione a cristo crocifisso da parte di padre pio ma padre pio non se ne fa mai un motivo di vanità lui porta la croce e in silenzio dicevo e chiudo che nel gennaio del 1917 il frate ormai già totalmente incorporato a cristo e quindi pronto poi per la stigmatizzazione visibile scrive a giuseppina morgera queste parole figlia mia non avere paura questo dolcissimo iddio è con voi riposa in voi e vi deve bastare domani approfondiremo queste parole di padre pio a giuseppina morgere ciao a tutti io vi aspetto sempre domani qui da pietrelcina padre pio tv dritto al cuore grazie a tutti